Questo è il mio N-Max N-Max ha un design molto adatto alla città e inoltre porta un motore blue core un abbinamento fantastico ha una guida sportiva che mi diverte molto a me questo modello piace tantissimo e a voi? Yamaha, siamo a Kindi Depan e a voi? Grazie a tutti Grazie a tutti